Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Anzi, il primo video insieme dal canale Cosa oggi accadrà qui sul canale? Oggi questo canale verrà, diciamo, diviso fra entrambi noi due In che senso? Allora, non so se mi sei accorti Nell'ultimo periodo, io e Walker, soprattutto dall'ultima live Io e Walker abbiamo, diciamo... Stoppato, abbiamo smesso di fare video e cose Proprio assenti, più di quanto eravamo Esatto Allora, in totale, quello che vogliamo fare Ci siamo accorti, sia io che lui Che vogliamo essere costanti e portare video belli e divertenti Ma non ci riusciamo Perché ovviamente stanno prendendo degli studi Delle cazzate varie E abbiamo deciso di fare questo Abbiamo deciso ovviamente di unire i nostri canali Che era l'idea iniziale che avevamo scelto Quello che vogliamo fare E siccome allo stesso tempo ci piace giocare insieme Quindi divertirci Ma non abbiamo il tempo Non troviamo il tempo di registrare insieme spesso Tipo oggi è stato il miracolo di Natale Visto che, ragazzi, sta arrivando Natale Vi diremo una cosa importante dopo Quello che vogliamo dire è che Abbiamo deciso di cercare questo canale Ma non sarà tipo ogni video Stiamo insieme Sarà un video in cui Quando registrerà uno Il video pronto lo pubblica lui E poi lo farà l'altro In modo che Quasi tutti i giorni potremo portare Esatto Però Quando invece Naturalmente Quando invece Potremo entrambi Come oggi ad esempio Portare i video Li porteremo entrambi i video Cosa vuole dire Walker Quando invece Non potremo Registrare i video Insieme Ad esempio Se un giorno Quel giorno posso io Ma non può Walker Registrerò io il video Lo editerò E lo posterò sul canale E così La stessa cosa farà Walker Quando nei giorni Che io lo porto così In modo tale Riusciamo ad essere Costanti Abbastanza costanti Di sicuro Molto più di prima Un'altra cosa Cosa vi voleva dire Prima Walker Con il fatto di Natale Di Diciamo Di Natale Vi voleva dire Che Praticamente A breve Sul canale Ci sarà Piccolo spoiler Una challenge Natalizia Non vi diciamo Che challenge Però ci sarà Una challenge Molto carina Natalizia E Nulla Che altro Vuole aggiungere Qualcos'altro Walker Ragazzi Cosa potremmo aggiungere Boh Spero che Questa idea Di Nel canale Vi piaccia Perché è una cosa Sia che Aiuta noi Ma può aiutare anche voi Perché Come ho visto Spero che vi piaccia I nostri video Questa è una domanda Quindi Questa idea Serve per Per far divertire voi Anche aiutare noi Di farci divertire E comunque ci piace Registrare insieme Ma non possiamo Sempre Esatto Ragazzi Inoltre Vorrei aggiungere Un'altra cosa Se Volete Qui sotto Nei commenti Potete farci Delle domande Qualsiasi tipo Di domande E noi Più Avevamo L'intenzione Di Portare Sul canale O Un'intervista Doppia O un video Dove rispondiamo A tutte le vostre domande E già Poi inoltre Nei commenti Oltre alle domande Fateci sapere Che video Vorreste vedere Sul canale Oltre a fortnite E Noi Se avremo la possibilità Ve lo porteremo Sul canale Poi Se Sul canale Fateci sapere Se oltre ai gameplay Vorreste vedere Delle Challenge Che noi siamo Ben felici Di registrarle Perché ci divertiamo Perché ci divertiamo Anche con quelle Che poi ragazzi Noi abbiamo già Tante idee Che vogliamo portare Di challenge Anche video Che ci sono venute Quindi Allora ragazzi Vi dico Seguitici pure Su Instagram In cui troverete I nostri profili In descrizione Se seguiteci anche Su Instagram Che trovate Come ha detto Walker I nostri profili In descrizione E vi lascerò Anche il vecchio Profilo di Walker In descrizione Dove Diciamo che Più che altro Walker Non sa più Che farne Di quel profilo Allora abbiamo deciso Allora abbiamo deciso Anzi Anzi prima di questa cosa Importantissima Proprio A manco Non so il gatto Che sta fuori Non deve saperla Iniziamo Prima con Abbiamo un team Di Fortnite Che vogliamo Cercare di espandere E Con questo team Se arriveremo A tante persone E varie cose Vogliamo espanderlo Anche sui video Su altri tipi Di videogiochi Che ne so Minecraft O Non so che cacchio E altro Esiste sul mondo Porco 2 Qualche dolore Tipo Non so FIFA E altre cose E Dopodiché Ovviamente Contattateci su Instagram Nei video Queste cose Per fare i provini Quello C'è sempre Ragazzi Per fare i provini Vi metteremo pure Esatto Vai Ma sei proprio stronzo Per fare i provini A queste cose Vi metteremo in descrizione Pure Il link del canale Sì vabbè Del canale Del profilo di Instagram Dell'altro capo Del team Che ovviamente Non siamo solo nei due Ma c'è un terzo Il perché Poi lo scoprirete Quando farete domande E Quello che vogliamo dire La cosa più importante La cosa più importante Di tutte Dovete Divinizzare Jerry Jerry E il lama Di For Jerry E quello che ci dà L'esperazione In tutti i video In tutti i cosi Nel caso Entrasse nel team Il lama Se trovate un lama In gioco Dovete reclamarlo Assolutamente Jerry E importantissimo Questo Ragazzi E se vi becco Che non lo chiamate Jerry Vi vengo a casa E vi tiro Un Jerry addosso Ce l'ho proprio Ce l'ho qui Ce l'ho qui Un Jerry salvatico Qui Esatto ragazzi Ce l'ho pure Come penna Il Jerry Penna Non so perché Ce l'ho Però ce l'ho Come penna Oe Vedi come E' entrato dentro Eh Io sono bravo Ad entrare dentro No Ti è entrato Più dentro Lui Che tu Allora ragazzi Quindi Spero che Avete capito Quindi a parte Gli scherzi Spero che L'idea vi piaccia Questa è la parte Più importante Cosa vi possiamo dire Iscrivetevi Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Al canale Stiamo crescendo Tanto su youtube E Veramente tanto Siamo già a 100 Mi sa 120 iscritti Certo raga Non sono No in realtà 125 126 Ora non ricordo Ben Eh Ragazzi certo Non sono chissà cosa 125 iscritti Però Vi voglio dire C'è una settimana fa Eravamo ai 60 iscritti Circa C'è Vero raga Con quella live Che abbiamo fatto Della war team Esploso Esploso Pure sul mio canale Personale L'improvviso Sono quasi arrivati A 70 iscritti In un giorno Come E stavamo A 55 60 Quindi Vi diciamo Proprio un enorme Grazie Con tutto il gerdo Nel cuore Esatto Ragazzi Nulla Ora vi voglio dire Solamente Se volete iscrivervi Al canale Iscrivetevi Lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto E se questa idea Attivate la campanellina Per ogni video Aspetta Attivata Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Fateci sapere Sotto i commenti Tutte le cose che avevamo chiesto E se vi piace questa idea E nulla Attivate la campanellina Per non perdere il video Sul canale E Ci vediamo Al prossimo video Bella 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 Ragazzi No vabbè Lo vedete pure tu Robin Lo vedete Ragazzi Mi prego Mi cazzo amore Mi cazzo amore